Giorgio Battuello, tra andata e ritorno due prestazioni direi positive per te col finale Prestazione positiva anche per il Pietra oggi, che non ha trovato la vittoria però abbiamo visto una squadra come Imperi in salute Sì assolutamente, nel senso che sono magari due partite che stiamo facendo bene e non raccogliamo quello che dovremmo Però siamo sulla strada giusta, continuiamo a lavorare bene in settimana col mister, siamo tranquilli, la società ci dà una grossissima mano Ed è la cosa fondamentale magari quando hai dei periodi un po' bui come stiamo vivendo Però grazie alla società, grazie ai compagni, stiamo facendo tutti bene, quindi siamo sereni, continuiamo su questa onda qua Dovresti dare un giudizio alla tua prova di oggi? No, ho dato una mano alla squadra, forse se avessi fatto gol sarebbe stato meglio perché magari parliamo di un'altra partita Però va benissimo così, sono contento, devo riprendere un pochettino di ritmo e magari un pochettino più di brillantezza Che è una cosa che mi manca però Oggi il mister ha detto che ha scelto te per attaccare un po' di più la profondità del finale, attaccare la loro difesa alle spalle Questo a tratti vi è riuscito, vi è riuscito anche bene con un modulo che comunque non è abituale per voi Sì, ho voluto cambiare un pochettino, infatti ci siamo preparati in settimana Sì, magari ha scelto me perché appunto sono un pochettino più punta rispetto a Gaggi e Rauteri Che comunque Gaggi è stato sfortunato, infatti speriamo che non sia nulla di grave L'ho sentito prima e in pronto, sta facendo penso i raggi per la spalla E Out è un altro che preferisce partire magari da un pochettino più esterno Per essere un pochettino più tecnico e puntare con un palla al piede Io invece ho bisogno di un pochettino più di palla lunga e pedalare, come si diceva in vecchio modo Io invece ho bisogno di un pochettino più di palla